Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito oggi abbiamo qui i nostri ospiti due membri storici della band dell'orchestraccia benvenuti, benvenuti a Marco Coniti e a Luca Angeletti grazie, benvenuti allora, voi siete qui perché? perché ovviamente parleremo di orchestraccia voi insomma siete anche attori importanti però qui siete in veste di musicisti oggi, giusto? cantatori, cantatori perché comunque l'orchestraccia è teatro canzone ah, perfetto, quindi cantatori allora però cominciamo da Siamo gente de Borgata che è questo nuovo singolo tra l'altro un videoclip favoloso che ho visto recentemente ambientato nel mercato rionale tu scolano terzo, giusto? mi volete può raccontare come nasce ma io sono originario del quadrato quindi questo mercato ce l'ho da bambino è un video che non ha grandi pretese narrative se non il fatto di dire stiamo tornando è quasi un'informazione ed essendo noi una band molto popolare dal basso che nasce con la voglia di far riunire trasversalmente la canzone romana sia da chi la conosceva ma anche da ragazzi che non conosce il mercato rionale mi sembra un luogo meraviglioso per arrivare poi è pieno di colori, di profumi, di odori di umanità, è bellissimo e poi è anche un ponte tra il passato e la modernità è l'ultima cosa rimasta di quelle che c'era una volta è proprio questo pezzo che è del 72 l'abbiamo ripreso orchestracciato come ci piace dire a noi ogni tanto quando riprendiamo questi pezzi perché l'abbiamo trovato molto attuale purtroppo è una realtà faticosa anche oggi come lo era negli anni 70 quindi non si sono fatti i costi passi dovremmo farci qualche domanda o forse siamo tornati indietro più che non oppure siamo semplicemente rimasti fermi ammesso che fossimo andati avanti però hanno dato anche un grande coinvolgimento delle persone che stavano proprio all'interno di quel mercato durante il periodo è quasi un flash mob assorpresa le persone ci vogliono veramente bene noi lo vediamo noi siamo andiamo contrariamente quando arriva un po' il successo tante persone iniziano a fare gli snob a noi ci piace molto andare anche nelle feste di piazza e nelle feste di piazza siamo proprio attesi sai che a una festa di piazza spesso succede che se c'è Orietta Berti o i Metallica è la stessa cosa nel senso che sei il santo padrono invece nel nostro caso c'è proprio una situazione di attesa e questa cosa ci piace molto e ci seguono anche ogni tanto fanno il tour con noi il tour delle piazze si organizza le vacanze facendo il tour insieme a noi comunque la vostra musica ha una cosa di bella che voi riproponete canzoni riproponete comunque suonate canzoni che sembrano senza tempo che resistono nel tempo ed è un po' un'anomalia di questi tempi in cui le canzoni purtroppo c'è una discadenza a tempi molto insomma molto brevi a noi ci piace andare esattamente dove non si va ci piace osare dove non si osa adesso paradossalmente essere tradizionalisti è la cosa più audace e più decorante che c'è è vero c'è ragione sì e poi in realtà la tradizione rappresenta il classico quindi è quello che rimane è quello che viene tramandato sono sempre le stesse storie riaggiornate ai giorni d'oggi un po' quell'operazione che facciamo noi anche prendendo spunto dalla tradizione sicuramente riportandola però anche prendendo spunto per scrivere altre cose che raccontano la modernità col graffio della romanità che poi è una lingua abbiamo scoperto anche recentemente che la comprendono tutti i romani lo capiscono tutti siamo pieni di dialetti in Italia avevamo deciso di fare l'inglese o il romano abbiamo deciso di fare l'inglese dell'Italia è come quel tempo bella questa cosa soprattutto Siamo un gente di Borgata è una canzone che parla anche di di speranza nel senso senso di riscatto esatto nel senso la speranza aiuta anche a superare i momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo e soprattutto non costa niente come dice che non è una una cosa da poco nel senso che oggi è una vita molto faticosa anche economicamente e quindi la speranza non costa niente e viva la speranza questo del grande califano in realtà riborta una riflessione incredibile che ognuno deve vincere da qualche parte e a volte si vince sentimentalmente quello che la vita non ti restituisce giorno dopo giorno il fatto di poter vincere dentro casa propria con un amore con una realizzazione sentimentale si ripaga di tante sconfitte e di tante ingiustizie che subiamo ogni giorno quindi chiaramente sul lavoro nella società sembrava intelligente la risposta ma assolutamente sì assolutamente sì essendo il vostro un collettivo no? con membri che cioè voi avete un'ossatura base no? e poi ci sono degli ospiti dei membri poi ci sono le frattaglie frattaglie di lusso se vogliamo perché insomma l'ossatura base sembra il pollo no no nel senso poi ci sono l'interiore siete lo scheletro non so come dire però attorno a voi diciamo girano tantissimi ospiti importanti che vengono anche dal mondo del cinema insomma che poi sono amici in realtà poi ovviamente tipo Edoardo Leo Diego Bianchi Alessandro Roia ditemeli voi perché se non sono stati da mettere tra l'altro nove anni che poi siete sulla scena Pesce Amendola tutti Virginia Raffaele Lillo viene sempre Stefano Fresi quando non smettiamo più Ilaria Spada Paolo Calabresi Paolo Calabresi Montanari continuo se tutto cinema italiana è veramente cinema tv chi più e chi meno ma volevo chiedermi una cosa il processo creativo di una canzone dell'orchestra come viene fuori ci sono questi ospiti che mettono delle idee oppure siete voi che le create e gli altri poi interpretano per quanto riguarda le canzoni originali solitamente siamo noi ok nel senso che rimane un processo nostro però abbiamo scoperto che questa è stata una cosa fighissima che poi in Italia questa cosa è sempre molto poco pubblicizzata in America la normalità che uno che faccia l'attore sappia anche suoi altri strumenti che canti che in Italia anche ci sono dei grandissimi musicisti cantanti tra gli attori per esempio e questa cosa quasi mai è riconosciuta per cui quando arrivano arrivano con delle idee con delle professionalità con delle preparazioni pazzesche quasi da non farli venire più a rischio poi no ma poi anche una voglia di stare sul palco che magari uno da solo non ha la serata dove va a suonare però insieme a noi nel nostro contesto è veramente un'occasione una vetrina una liberatoria è una liberazione la liberatoria la dobbiamo chiedere alle agenzie la liberazione se la prende in questi nove anni di carriera di nove anni si sta parlando la vita dell'orchestraccia insomma mi suggeriva prima che dobbiamo fare una festa l'anno prossimo c'è il decennale quindi ci aspettiamo una grande festa o ci sciogliamo o facciamo una festa dai cavolo siamo arrivati fino adesso adesso andiamo in Europa vi volevo chiedere in questi nove anni ci sono stati evidentemente molti momenti toccanti non importanti lui ad esempio prima mi raccontava che insomma uno dei momenti più belli è stato quando avete suonato a Re Bibbia giusto? sono tre anni che voi suonate lì a Re Bibbia davanti ai come quali sono? i punti cardi no i momenti insomma per voi più emozionanti di questi nove anni che voi ricordate sempre con più piacere sicuramente sono dei momenti che la prima volta all'auditorium e la cavea è stato un momento pazzesco il primo primo maggio è forse l'ultimo che abbiamo chiuso proprio il primo maggio che siamo passati dal pomeriggio a mezzogiorno e venti alla chiusura quindi abbiamo fatto tutte le tappe e la prima volta a Villada Rocchi in Roma ce ne sono tante e poi secondo me la prima volta che abbiamo sommato sto giro delle piazze facendo più di 30 concerti come quest'anno abbiamo una trentina e vedendo questa atmosfera proprio di gioiosa riconoscenza ai nostri poi devo dire anche nelle serate sparse anche nei concerti nei paesi c'è sempre un motivo per emozionarsi per qualcosa a volte anche la storia di uno che conosci del pubblico che te l'ha raccontata non ultima non faccio nomi è la morte di un papà di uno del pubblico che conosciamo anche fare degli omaggi no ed essere partecipi per una situazione anche contingente rispetto a quello che succede abbiamo fatto tante cose per beneficenza insomma c'è sempre un grande cuore e una grande attenzione al contemporaneo a quello che succede quindi siamo sempre attivi e arzilli in quel senso grazie a tutti